Individuato dalla Polizia di Stato di Pescara l'autore di alcune rapine commesse in città negli ultimi giorni ai danni anche di minorenni e che avevano creato allarme sociale in città. In manette finito un 19enne per rapina aggravata e tentata rapina. Per il giovane il PM della procura di Pescara De Lucia aveva richiesto l'arresto che è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale. I dettagli dell'operazione sono stati forniti questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal dirigente della squadra mobile di Pescara Gianluca Di Frischia. Ci sono stati tre episodi distinti per un totale di quattro vittime di rapina da parte di questo soggetto di questo aggressore armato di coltello ai danni di alcuni giovanissimi perché due di questi erano addirittura minorenni e in particolare mirati alla consegna dei loro cellulari. In uno di questi episodi l'aggressore ha attinto con un fendente uno dei ragazzi, un ragazzo di 22 anni, alla spalla. All'arresto si è arrivati con dei servizi mirati proprio partendo dalle descrizioni che seppur generiche avevano dei tratti in comuni, delle peculiarità che appunto rendevano la cosa diciamo anomala e per cui abbiamo subito, siamo andati subito per strada con dei servizi mirati in determinate zone, sperando e sapendo che avremmo potuto poi trovare questa persona anche perché da quello che ci risultava avrebbe potuto agire nuovamente.